Adesso direi che continuiamo a parlare di cinema visto che diventa in questo momento il focus principale considerando che con me c'è Johannes Virix che se avete visto Comandante avete visto sicuramente visto che ha uno dei ruoli più importanti oltre a quello di Pierfrancesco Favino Johannes rappresenta benissimo quella nuova generazione a cui Cosmopolitan si rivolge soprattutto in questo nuovo numero che è dedicato alla nuova generazione del cinema e della tv che diciamo ha spirito internazionale e in qualche modo guarda avanti intanto ti chiedo com'è essere qui al tuo esordio cinematografico aver sfilato sul red carpet vai raccontami tutte le emozioni Buonasera a tutti non sono italiano sono belga quindi provo ad esprimermi e se non va bene troveremo un altro modo non verbalmente forse sono sono estremamente emozionato essere qua questi giorni sono veramente stato stato in sogno è incredibile che il film sia finalmente uscito è bellissimo averlo visto anche finalmente ieri e sono molto emozionato anche poter fare questi talk queste conversazioni perché ci tengo molto al tema del film che non parla solo di guerra ma anzi di pace di umanità in situazioni molto peggiori forse peggiori del peggiori e sì la cosa che mi interessa di infatti anche riguarda la cosa che è stato detto prima della mia generazione è quasi come se Todaro nel film il comandante belga legga negli occhi del mio personaggio una speranza o qualcosa che gli porterà la nuova generazione che lui in questo esempio non ha tanta scelta di di non prendere a bordo in questa situazione specifica questo giovane belga nemico più che altro perché è nelle loro mani la generazione c'è il futuro e la speranza e questo è bello perché sono delle cose che non si possono dire non riusciamo mai a dire le cose più importanti e infatti c'è tanto dialogo tra di noi Todaro e me o Pier Francesco Favino e me che è non verbale e questo è molto bello perché sono delle cose non dette ma molto importante e questo è bello perché mi sento molto rappresentato dal mio personaggio quando ho visto il film ieri ho pianto tutto il tempo due ore di seguito non ho mai pianto così tanto non ho mai perso così tante lacrime nella mia vita e non mi sono molto riconosciuto perché è veramente un personaggio che è stato costruito in quelle settimane ho sofferto un pochino in quelle settimane perché è stato tosto aver girato quel film a Taranto abbiamo fatto gli esterni e gli interni invece a Roma a Cinecità quindi vedo una persona, una versione di me che avrò magari tra trent'anni quando sarò molto più invecchiato questo è molto interessante però vedo una persona che è matura e che porta la responsabilità del suo popolo e della sua natura con sé perché lui non è un uomo di mare come tanti altri nel film ma lui porta un altro mondo, magari un mondo di curiosità di essere interessati nell'altra persona e di poter capire, di scoprire nuove cose ma non di combattere queste cose lui infatti ha imparato sette lingue ma che cosa fai con sette lingue? è un po' come me è perché sogniamo, sogniamo di un futuro in cui ci capiremo tutti in cui non ci sarà più guerra questo magari non è una utopia ma comunque è bello avere questi personaggi e sì, sono fiero non so se mi piace questa parola questa parola ma mi sento rappresentato dal mio personaggio e questo è bello perché così la storia è veramente emozionante è vera più che altro sì, poi tu parlavi di dialogo, di questa umanità che sfocia proprio nel dialogo e tu hai in questo senso il ruolo chiave perché fai da mediatore linguistico tra il fiammingo e l'italiano visto che stiamo parlando di fragilità di questa grandissima umanità che emerge nel film quanto è importante per un attore secondo te lasciare le ferite aperte? importantissimo purtroppo perché da attore non voglio fare una storia drammatica tragica sul fare l'attore perché è un mestiere unico, bellissimo, veramente splendido però un'attrice mi ha detto qualche mese fa con la quale ho lavorato per uno spettacolo in Olanda lei mi ha detto che un attore deve essere una ferita aperta quando recita proprio una ferita aperta quindi deve essere vulnerabilissimo se si può dire, super vulnerabile davanti al pubblico perché solo così si può trasmettere un'emozione, una storia è vero infatti che questo Jacques Reclair quando arriva così si chiama il mio personaggio Jacques Reclair lui non è solo vulnerabile, quasi non è più nessuno lui pensava di morire quando è stato affondato il cabalo il mercantile belga dagli italiani nel film ma lui pensa di non essere più umano neanche forse quindi quando arriva sul cappellini quando sale a bordo del sommergibile italiano non si sente magari neanche più un essere umano e essere salvato a quel punto in piena vulnerabilità sì è bello perché secondo me si tratta anche di un istinto forse di Todaro e questo dimostra secondo me che siamo tutti capaci di seguire i nostri istinti in queste situazioni che per esempio è un caso molto concreto perché il paragone con migranti infatti come è stato menzionato prima è facile da fare salvare mille persone in mare in un mare chilometri lontani da me è un'altra cosa però le dinamiche possono essere le stesse non so se mi spiego ma Todaro segue il suo istinto salvare un uomo in mare davanti a sé questo è un atto eroico nel film però è anche un istinto umano direi ma il conflitto che c'è o tutti gli esseri umani che purtroppo non vengono salvati anche purtroppo per la distanza che c'è e per la novità che magari arriva molto dopo e questi personaggi, questi esseri umani sono conosciuti anche in un istante molto piccolo, molto velocemente ma si tratta di una cosa, sì, un rapporto personale dall'inizio e questo è importante però non rende la cosa molto, cioè non è facile infatti sì, poi il comandante parla appunto di questa che stavi citando cioè della legge del mare che non guarda un po' in faccia a nessuno perché ha a che fare proprio con il rispetto, il diritto, l'amore verso l'umanità che appunto in comandante si vede e visto che so che hai dovuto fare un gran training per questo film dato che io ho paura a livello fisico perché infatti mi hanno fatto fare dei training già ad Amsterdam dove vivo delle lezioni di nuoto ma veramente di un livello bassissimo per bambini di 5 anni perché non sapevo nuotare stavo per dire non so nuotare ma ormai sotto acqua con la testa eccetera tutto bene ma sì, infatti a livello fisico è stato c'è una sfida ma anche belle le sfide ovviamente perché abbiamo girato tutto il film cioè gli esterni almeno in pieno mare a largo anche a volte in una scialupa in mezzo al mare sì, in cui ti perdi tutti i contorni perdi proprio il confine ma anche di notte abbiamo girato io con la mia paura della profondità del mare del sale dei pesci che magari ci sono sotto di me quindi a livello fisico è stata una sfida ma forse le sfide fisiche si possono in un certo senso più facilmente superare non so perché si dice superare superare le nostre paure perché a livello emozionale è più difficile forse perché siamo costruzioni siamo diventati come siamo grazie a o per cose del nostro passato eccetera che non possiamo cambiare così velocemente per esempio l'adrenalina mi ha aiutato a non pensare alla mia paura dell'acqua ma io come sono come persona non posso cambiare più velocemente a livello emotivo che sono sono stato molto emozionato lì però a livello emozionale mi sono trovato molto al sicuro per i diversi equipaggi sia quello italiano che quello belga e questo è stato importante perché il set è il mio primo film che ho fatto quindi faccio l'attore di teatro fino ora e da ieri sono anche in un film per la prima volta nella mia vita è un film che ha aperto Venezia sì quindi è veramente una cosa come un inizio di magari una cosa è veramente incredibile quasi mi vergogno a dire che non ho mai fatto un film e adesso faccio parte dell'apertura del festival è un po' caldo ma è veramente è veramente stato un periodo bellissimo mi ha già cambiato la vita aver potuto fare parte di questo film e per esempio mi ricordo ed è per questo forse che ho pianto anche durante il film durante le due ore perché ogni scena che ho fatto ogni scena che ho visto mi ha ricordato di un momento di un giorno di notte, di giorno in cui siamo stati bene in cui ci siamo trovati come esseri umani italiani, belgi ma anche tanti altri stranieri non mi piace molto la parola straniero in italiano perché sembrano tutti strani ma tante persone dell'estero è stata un'emozione molto forte perché è proprio un lavoro di gruppo un lavoro collettivo che è stato e una cosa che vorrei condividere è per esempio che il regista Eduardo Di Angelis bravissimo che ha dato tanta libertà ma sempre in modo molto responsabile ovviamente di farci ovviamente una sceneggiatura una potenza perché c'è una scena che è tutta improvvizzata in cui Todaro mi regala le scarpe sono molto emozionato che c'è quella scena perché sì io sento che le dinamiche in quella scena sono molto da noi da Pierfrancesco e me si capisce dove noi ci siamo trovati l'uno con l'altro la libertà che ci è stata è molto è un onore che ho sentito e ho delle repliche che il regista era di questo motivo per seguire anche come attore il nostro instinto piena trasmissione con le emozioni dell'altro e poi avevo Pierfrancesco Favino e Johan Heldenberg al mio fianco o io dietro di loro è stato pazzesco intenso ma visto che siamo al Festival di Venezia e parliamo di grande cinema tu vieni da un contesto cinematografico importante perché penso a Chantal Akerman grandissima regista belga nonché regista di quello che viene considerato dall'anno scorso se non sbaglio il film migliore del mondo che è Jean Dilman ti chiedo qual è il primo ricordo che hai legato al cinema nella tua famiglia nella tua vita? ah infatti ci stavo pensando perché ho già deciso che film mettere su questa cosa qua e forse non sì lo devo anticipare ormai se posso devi dirlo fai lo spoiler ma forse è un po' no non sarà un cliché spero perché non so l'opinione pubblica di questo film in Italia ma dalla mia famiglia è un film molto apprezzato e la vita è bella e ho dei va bene ups forse ho sbagliato e ho dei ricordi bellissimi di questo film spero di non piangere adesso perché mio padre è morto quando avevo dieci anni e quindi ho pochi ricordi con lui che ho condiviso con lui ma un ricordo è che abbiamo visto quel film ma più volte perché ci piaceva molto la musica e ci piaceva molto l'allegria l'allegria che che porta quel film in mezzo a in realtà come da comandante in comandante in mezzo a una situazione quasi disumano anti-umana disumana e si ci ha data ci ha dato speranza perché mio padre è stato malato per tanti anni soffriva di cancro per tanti anni ma questo film ci ha dato non è che stavamo combattendo una guerra ovviamente a casa perché cancro è anche è una battaglia ma non è una guerra come la seconda guerra mondiale ma comunque per noi è stato molto importante e questo è il mio primo ricordo da bambino da giovanissimo con il cinema che apre un dialogo dallo schermo direttamente al nostro cuore e ci mette in dialogo tra di noi e ci ha dato l'opportunità di condividere cose che non potevamo esprimere una sensazione di essere insieme e di essere forti insieme anche nella nostra fragilità e questo è bello quindi sempre quando mi porterò per sempre quel film nel mio cuore perché ovviamente la relazione il rapporto anche padre figlio è molto importante in quel film e sì ci sono dei libri in cui scrivi in Olanda almeno in cui scrivi tipo devi rispondere alle domande qual è il tuo colore preferito il tuo hobby eccetera e ho anche fatto scrivere in quel quaderno tipo mio padre e la domanda che cosa mi auguri o che cosa è il tuo sogno per la mia vita e lui ha scritto che farai l'attore e che sarai bravo ma quando lui è morto non facevo per niente l'attore non sapevo ancora che era dentro di me questo sogno questa passione quindi è molto bello che lui in un certo senso l'ha previsto forse che questo era la mia strada di fare io dopo queste parole non ti chiederei altro e finirei così grazie grazie a tutti